Netto 3 a 0 in gara 2 della Seco Service Ortona contro Fano e promozione meritatissima in Serie 2. Possiamo dire che Ortona è tornata a casa sua, è tornata in Serie 2. Vittoria meritatissima che andiamo ad analizzare con il coach Nunzio Lanci per Ortona straordinario Lionel Marshall. La cosa più bella forse è stata quella, riuscire a vincere e a ritornare nel campionato che ci ha visto i protagonisti fino allo scorso anno. In una cornice di pubblico così importante. Ortona torna a casa sua, in A2. Sì, torna in A2, torna a casa sua, è il campionato che ci ha visto i protagonisti per tantissimi anni. Siamo tornati dove tanti dicono che meritiamo di stare. Davanti a 1.500 spettatori è qualcosa di unico. Sì, 1.500 biglietti venduti, quindi sì. Vittoria meritata, gara 1 e gara 2 con Ortona superiore a Fano. Gara 1 vinta con gli attributi, quando anche nel momento in cui ci davano tutti per spacciati siamo riusciti a risalire, a riprenderci la partita. E questa giocata colpiglio giusto, l'atteggiamento giusto, meritato di portarla a casa 3 a 0.